C'è il mercato della droga che in città è sempre più florido, ma anche la preoccupante diffusione di armi da fuoco sotto i riflettori della Polizia di Stato. Nelle scorse ore infatti la squadra mobile e il commissariato di polizia hanno tratto in arresto un uomo che aveva con sé quasi un chilo di cocaina, un fucile con canne mozze e munizioni di varia tipologia. I sospetti si sono puntati sull'insolito via vai di gente nei pressi di un garage di un quartiere della periferia gelese. Nel corso del servizio appostamento i poliziotti hanno così fermato un pregiudicato che stava per entrare all'interno del locale e lo hanno perquisito. All'interno di una tasca e pantaloni gli agenti gli hanno trovato e poi sequestrato oltre 100 grammi di cocaina. Il ritrovamento della droga ha spinto poi la polizia a approfondire le indagini perquisendo anche l'interno del garage, dove ben occultati in alcuni anfratti nascosti hanno rinvenuto altri involucri contenenti polvere bianca ed anche un fucile con le canne mozzate, un'arma che così modificata aumenta la sua pericolosità in quanto ne facilita l'occultamento e ne aumenta la potenzialità offensiva. Insieme all'arma sono state rinvenute numerose munizioni di vario calibro, anche queste inequivocabili segnali di una particolare pericolosità dell'indagato. Presso gli uffici al commissariato poi la polizia scientifica ha analizzato la sostanza polverosa di colore bianco e ha accertato che si trattasse di cocaina per un peso complessivo di quasi un chilo, che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Su disposizione dei magistrati l'indagato è stato dunque condotto in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l'arresto operato dalla polizia di Stato e ha disposto l'applicazione della misura cautelare in carcere richiesta dal Pubblico Ministero.